Buonasera Marco, noi volevamo subito chiederti qual è il rapporto dei filosofi con la salute, è un tema ricorrente, è un tema trattato in filosofia? Sì, è un tema ricorrente, molto trattato da quando nel mondo antico i greci, i romani poi hanno iniziato a discuterne, però bisogna dire che è cambiato questo rapporto, soprattutto dopo il XVIII secolo, dopo la rivoluzione scientifica. Il famoso XVIII secolo. Quando soprattutto grazie a questa rivoluzione abbiamo avuto la medicina che abbiamo oggi e abbiamo quella salute di cui stiamo parlando oggi, ad esempio per gli antichi, penso ad Epicuro ma anche Fedro, il Fedro di Platone, laddove si dice che non bisogna curare la malattia, bisogna curare l'anima, l'anima è tutt'uno con il corpo. Ecco, invece, oggi pensate a come noi definiamo la salute, noi oggi la definiamo per assenza, cioè ma la salute è quando non ce l'hai quando hai una malattia. Tu stai bene Marco? Io sto molto bene, grazie. Ecco, perché a volte quando guardo un filosofo non è che sembra che stia proprio, che sprizzi di salute. Ma perché? Cioè, parlano di salute, però non è che stanno benissimo storicamente, perché... Ma non in fede, ma se ti devi dire male... C'è la foto di Aristotele? La foto poi. C'è la faccia. Famossa foto? C'è un senso di Aristotele. C'è un senso di Aristotele. C'è un senso della storia. Ah, il senso. Io mi ricordo sempre. C'è un senso della storia. Batto dall'alto. Veramente, Salvatore, chiedo alla regia se mi trova il selfie di Aristotele. No, però c'hanno questi barboni, c'hanno 27 anni. Cioè, comunque, si vede che non stavano proprio... Cioè, magari dentro stavano bene, però qualche acciacchetto ce l'hanno con i filosofi. Beh, gli acciacchi ce li abbiamo tutti. Quello però ha a che fare un po' con la vecchiaia. E ha a che fare anche con... A proposito, c'è una notizia. C'è un miliardario, si chiama Brian Johnson, lui è proprio fissato con la giovinezza e si fa iniettare il sangue del figlio di 17enne perché in qualche modo vuole rincorrere la giovinezza e vorrebbe essere immortale. Leggiamo questa notizia. Miliardario si fa iniettare un litro di sangue del figlio di 17enne per assicurarsi l'immortalità. Ma il tema dell'immortalità è stato trattato dai filosofi? Sì, di solito i filosofi vogliono essere immortali non tanto nel corpo ma nell'anima. vogliono essere ricordati, vogliono essere immortali per quello che hanno detto o scritto. Noi siamo in qualche modo legati a un'idea di vecchiaia un po' stereotipata. Cioè noi diciamo che la vecchiaia è il momento in cui l'autunno della vita è il momento in cui non sei più felice però sei saggio. Ma siamo davvero sicuri che è così? C'era un filosofo tedesco, Gadamer... No, ma anche perché io ho visto un video di Platone in cui fa questa cosa... No, però è vero non sempre la vecchiaia... Allora io credo che... No, io posso dire una cosa. Ho ripensato proprio in questo momento ai miei nonni, no? Mi ricordo una foto dei miei nonni a 40 anni che erano vecchissimi, lui col baffo e lei pure. Uguali. Meravigliosi, meravigliosi, felici. Io credo che oggi, proprio perché viviamo più a lungo, ci sono tante vecchiaie e non c'è un modello attualmente. Ognuno di noi avrà la vecchiaia che si meriterà, che vorrà, che si sceglierà. E non ce n'è una che vada bene per me, che vada bene anche per voi. Però c'è una cosa che possiamo dire e su questo insomma c'è più vicinanza fra me e voi di quanto voi non possiate immaginare. Fra me e voi... I filosofi, i filosofi quelli buoni, sono socratici, quindi ironici. E i filosofi ironici sono quelli che sanno ridere, sanno sorridere, sanno anche far ridere. Ecco, io credo che da questo punto di vista il vostro lavoro e il nostro lavoro hanno qualcosa in comune e sentiremo risuonare Omerica. Non te lo compri con così poco, Corrado, perché lui è scettico di naturale. Guarda, l'ho visto, è scettico. Ti piace Filoni? Che cosa non ti convince di Filoni? C'è un filosofo che si chiama Filoni. E vabbè, come si doveva chiamare? Ah, dai, Filoni, filosofo Filoni. Nell'antica Grecia tu hai sentito mai... Ah, sentiamo il filosofo Filoni, nel simposio. Filone d'Alessandria. Ma dai, Catullo è un nome da filosofo. Poeta. Livio. È uno storico. Ancomarzio, Servo Tullio, Servo Sterso. Quelli sono nomi da filosofo.